quando installate da vinci resolve 18 vi viene installata anche l'app che si chiama black magic proxy generator già dal nome si capisce che cosa fa ma comunque a livello di proxy sono state introdotte su resolve alcune novità vediamole ancora prima di utilizzare il proxy generator ho una semplicissima timeline vedete con dei bureau caricati io voglio crearmi dei proxy supponiamo di creare un proxy su questa clip facciamo come abbiamo sempre fatto anche con la release 17 tasto destro generate proxy media e automaticamente viene creato il proxy vedete che compare adesso nella vista thumbnail del media pool della edit page questa iconcina che sta a identificare che a questa clip è associato un proxy mentre alle altre no ma questa iconcina compare anche in timeline se la clip ha chiaramente è utilizzata nella timeline della edit page e anche nella timeline della cat page ma la troviamo anche in color page quindi vedete che c'è l'iconcina del proxy anche in color page ma qual è il codec utilizzato e dove viene salvato il proxy bello sappiamo andiamo in project settings in master settings qua troviamo proxy generation location quindi proxy vengono inseriti su questa cartella e il codec utilizzato dal proxy è questo vedete proxy media format dnx hr hqx all'interno del canale ci sono già alcuni contenuti video che spiegano come utilizzare il proxy quindi come andarlo a settare quindi vi invito a guardare eventualmente quei contenuti sulle preferenze in media storage abbiamo l'opzione di proxy generation location vedete che di default adesso è settato use project setting quindi vengono utilizzate le impostazioni che abbiamo visto prima a livello di posizionamento del proxy viene inserito nella cartella definita dal project settings oppure posso settare la creazione di subfolder vicine alla posizione dei media originali queste subfolder prenderanno appunto il nome di proxy oppure tutte le volte che crea un proxy si aprirà una finestra che mi chiederà dove andare a salvare quel proxy però esiste anche un'altra maniera più automatizzata appunto per creare i proxy tramite l'app di proxy generator quindi andiamo ad aprire l'app e vi chiederà dove andare a creare una watch folder che cos'è una watch folder è una cartella che contiene tutti i media di questo progetto anche di più progetti sui quali volete creare i proxy in maniera automatizzata quindi supponiamo di aver messo tutti i nostri file dentro la cartella media facciamo select folder ok adesso nel pannello del proxy generator nella cartella watch folder vedete che comparirà questa prima location naturalmente possiamo aggiungerne anche altre adesso siamo in posizione di attesa vedete waiting quindi ancora la conversione dei proxy non è stata fatta dobbiamo scegliere quale codec utilizzare per la creazione del proxy e quale settaggio dello stesso codec supponiamo di scegliere un 8 bit 4 2 0 in alpha resolution andiamo a fare start e su tutti i media ora contenuti nella cartella media verranno creati i proxy associati facciamo start questi sono i megabyte richiesti completed adesso facciamo stop dopo qualche secondo compare l'iconcina dei proxy su tutte le clip vuol dire che risolva parlato col proxy generator e automaticamente vengono associati i proxy alle clip sulla base di questo codec in particolare se voglio andare a vedere il mio watch folder seleziono il watch folder faccio show si apre vedete la cartella media con all'interno tutte le clip originali e una sub folder quindi vedete che il proxy generator vi crea in automatico una sub folder e qui all'interno vi mette tutte le trascodifiche fatte appunto per la generazione dei proxy quindi questi sono i proxy associati ai media originali chiaramente posso andare a rimuovere una watch folder posso andare a cancellare tutti i proxy quindi cliccando su delete proxy o posso estrarre i proxy da questa watch folder mi chiederà dove andare a salvare una cartella con tutti i proxy in questo modo voi andate a salvare solamente i proxy facciamo select folder done ok se andiamo su desktop vedete che c'è la cartella media con all'interno proxy e qui abbiamo solamente i proxy ho copiato solo i proxy e non i media originali ritorniamo sul nostro resolve vedete abbiamo l'iconcina dei proxy disponibili su tutta la timeline sappiamo dove sono stati salvati i proxy ma come faccio a sapere se sono abilitati oppure no vado su playback vedete che adesso c'è la voce che si chiama proxy handling e abbiamo tre opzioni di default c'è scritto proxy cioè se io ho disponibili media originali e ho disponibili i proxy vado a lavorare coi proxy quindi quello che vedo qua sono i proxy se invece vado a scegliere prefer camera originals vedete vengono spenti proxy quindi i proxy non sono più attivi quindi viene spenta l'iconcina dei proxy quindi questa iconcina sta a significare che sì c'è il proxy disponibile ma deve essere anche attualmente attivo quindi adesso attivo non è perché se faccio prefer camera original vuol dire che c'è sia il media originale sia il proxy e quindi lui resolve attiva il camera originals quindi i media originali se per caso però non ho ad esempio collegati i media originali ma ho solamente i proxy ecco che anche se lascio camera original lui lavorerà coi proxy perché i camera original non ci sono però se vado a cliccare su disable all proxy ad esempio quando vado in color page oppure sto lavorando con in vfx su fusion posso disabilitare tutti i proxy e qui i proxy proprio vengono disabilitati in toto e quindi non c'è più nessuna valutazione sulla preferenza camera original proxy ma io spengo i proxy come se non ci fossero quindi se non ho neanche camera original disponibili chiaramente qui avrò i miei media offline adesso riattiviamo i proxy e vedete che ricompare l'iconcina accanto torniamo sul proxy generator andiamo a fare delete proxy vedete cancello tutte le subfolder proxy faccio delete completed spariscono anche l'iconcina dei proxy se vado a fare show della watch folder vedete che non c'è più la subfolder proxy quindi vi ha pulito istantaneamente tutti i proxy creati